Se ti aspetti di ascoltare questo podcast per sentirti dire che siamo un grande paese e dobbiamo puntare di più sulla sostenibilità, sul green o sul made in Italy, sintonizzati su un altro canale. Questi luoghi comuni, politicamente corretti, non contribuiscono a migliorare il paese. Anzi, lo affossano. Se vogliamo realmente cambiare le cose, abbiamo una sola possibilità. Quella di rivitalizzare l'imprenditoria privata. Sono Paolo Borghetti, un imprenditore seriale, terribilmente innamorato del proprio lavoro. Sono sicuro che da questa serie podcast usciranno delle verità scomode che noi imprenditori solitamente ci scambiamo solo nei corridoi segreti del mondo del business. Vi prometto che non scenderò a compromessi con i miei valori in quanto non ho alcun interesse ad avere consensi e prendere applausi dal sistema. Considerate che oggi il sogno dell'80% degli imprenditori italiani è quello di vendere le proprie aziende ai fondi di investimento. È giunta l'ora di fermare questi predatori della finanza e plasmare un nuovo tipo di imprenditore. Un imprenditore affamato, creativo, che pensa fuori dagli schemi. Un imprenditore che ti fa sognare e che possa essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi giovani che nella vita non vogliono fare gli influencer. Ah, dimenticavo, sconsiglio l'ascolto a tutte le persone omologate. Le vostre coscienze potrebbero uscirne fortemente traumatizzate.